Che gioco è? L'odissea, c'è un tipo che deve tornare a casa e io devo fare in modo che non ci riesco Una linea di lit, capitano? Sì, perché quando non si sa dove andare è meglio andare dritti, no? Sempre dritti, non ci si sbaglia E le ruote quando le montiamo sotto le mani? Che ruote? Le ruote, perché i rematori possono anche impegnarsi a remare ma il timone si incastra Dove? Là Adesso è in modo contropulifemo Che cos'è? Un femore? No Non è un femore? No Sembra più un fermamato E questo? Questo qua è un gratta schiena Ma dici? Un gratta schiena Guarda Tracca, 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 tracca E questo chi è? Quello è Peritone Grande guerriero Sono sempre i migliori che se ne vanno Per questo restiamo ancora qua, no? Io l'avevo detto di fare attenzione Avevi detto che andava tutto bene Tutto qua Io non so voi Ma io mi sento un po' osservato Io sono triste perché penso a Itaca, la mia terra lontana Penelope, la mia sposa che mi attende fedelmente Bene, bene, bravo Molto meglio Vedi che quando ti applichi Molto, molto meglio così Bravissimo, bene Bene, bene, bene Penelope, mia signora Ci sono delle amizie Geometra, ci vediamo domani per il terrazzo Cara, carissima, dolce Calliope Volevo farti una domanda Tu da quanto tempo è che sei mia schiava? Da sei anni, mia signora Da sei anni Quindi dovresti sapere che prima di entrare nella mia stanza Devi toc toc bussare Ma pensavo che lei fosse sola Certo, pensavi che fossi sola Ma tu sei una schiava Quindi non devi pensare Devi soltanto servire Servire, servire, servire Ora dimmi pure le notizie Sono state avvistate le navi di Ulisse Ma sei pazza? Ma togli le scarpe, brucia le lettere e metti a posto Ma non è qui È stato avvistato a largo delle isole dei ciclopi È lontanissimo Chissà quando tornerà il mio povero padrone Mi hai fatto prendere uno spavento Mia cara, ma tu non devi farmi spaventare così Mai più, capisci? Mai più Mai più Mai più Mai più Mai più Ginezio Voi da confessare Chi è bestretti? Se sogno 25 euro Oh A pagare Ma non li ha Io signori Ma attensi Mi deve pagare Sennò Io veniri A spezzare O di tu Vai Tretti Io vuote ir a Roma Pi fare Un qualche cosa Da importanzi Pi avere Pi conoscenze Pi contribuire In ta crescita Materiale O spirituale Di la società Male Che vado a fare In ta capitale Lì è pericoloso Si può morire Da un momento all'altro Ci sono Ci sono Un arabo I recchioni Gente coi capelli lunghi Cogli orecchini Tretti Ma io come ho potuto dire Io Votei Tu non vuote Non vuote A casa Stiamo Coi genitoria Coi genitori Coi Giù Di tiri Crevio Perché la famiglia Fermi Deve stare Ave stare Uniti Immobili Non cambiamenze Cambiamenze Non buona Vuote morire? No Allora a casa Stia Ragazzi Rosto Bizzarro Forse Voto morire Forse Voto morire Io resto a casa Io sto a casa se ce posso stare C'è sta pure l'hashtag Ma l'hashtag fammi capire È tipo bozza L'hashtag è più de bozza È un po' meno de decreto Se però è hashtag di tendenza Cioè se l'hashtag mi diventa trending topic Diventa decreto di conseguenza Ciao a tutti ragazzi Come ben sapete Stiamo vivendo un'emergenza State a casa Riscoprite lo stare insieme Giocare Stavo a dire Ah non te lo dico io no Te lo dice lui invece vabbè La casa si sa È il riparo da tutto e da tutti Fino al 3 aprile Io resto a casa È un momento molto difficile È un momento complicato È in questi momenti Che noi abbiamo bisogno Di tanti supereroi I supereroi che dicono no All'uscita il weekend fuori I supereroi che rimangono a casa I supereroi che vanno al lavoro E tornano Rimanete in casa Dai supereroi Abbiamo bisogno di voi Ma con chi c'è là? Tu sei supereroe? Supereroi magari no Però guarda Te lo dico Il divano che c'è È di una scomodità atroce Ciao da Fiorello Come state ragazzi? Tutto bene? Da paura Ma perché non stiamo un po' a casa? Tutti a casa? Eh? Guarda che bello Che è sta roba Andare in giro A fare gli aperitivi? Ma perché ci parla Come se fossimo scemi? Perché ci conosce? Un po' di tempo fa Ma ero comprato questo Un nude Mi ha comprato l'upe Stiamo a casa Stiamo a casa Ascoltiamo gli esperti Seguiamo le direttive Io lo dico anche ai ragazzi Scusa Dice ascoltiamo gli esperti Ma perché stiamo assente lui? Perché è esperto Giusto? Oddio Neck Ciao come va? Ma che domande del cazzo so Il momento è sempre delicato Cos'è perché mi piace Neck? Perché non gli sfugge un cazzo E intanto non restiamo a casa Così In quel cassetto Molti libri Ed un bel film Facciamo finta Che là fuori piove Che poi la cosa che mi fa un cazzè È che sti giorni C'è stan sole da paura A San Giorgi Un altro che ne è? Non è a casa Quindi se stai a casa Che fai? Per me Io guardo film C'è la parte da ora Che film hanno visto? Sì film dei prati No film è aperto Il film è aperto Questa è quella di fare programma con te Pure lui è straccato La finestra sul cortile